Noi crediamo che il Papa ci sia incontrato perché questo film parla di una storia vera e anche il Papa sappiamo che in questi anni ha sempre dedicato il suo impegno per l'umanità e speriamo che questo film ricava la possibilità di avere dei canali di ingresso sicuri per evitare e lottare contro la clandestinità. Per lottare contro la clandestinità ci vuole delle leggi reali e anche un modo per lottare contro i trafficanti di esseri umani. Quindi siamo emozionati di essere al Vaticano, di incontrare il Papa, di tutto quello che ha fatto in questi anni. Io provengo da Caserta, durante il Covid ci ha portato anche di aiuto materiale, finanziario, medicine a Castelvotuno. Quindi la nostra presenza può arrivare a dire un ringraziamento profondo di quello che fa il Papa sul nostro territorio. E spieghiamo che ci sia anche la possibilità di un permesso di soggiorno per tutti quanti che vivono qua perché sia il viaggio, sia chi sta qua, ci sarà sofferenza. Il permesso di soggiorno è un strumento anche per poter lavorare e avere la dignità.